Buonasera, Amadeus che sta conducendo Sanremo, noi invece partiamo con la diretta, qui nella stanza dello spirito del tempo, la stanza c'è, c'è Fenix, Aiace, Pegasus, eccolo qui, guardate che bello il busto, lo spirito è quello nostro che abbiamo, è quello nerd e il tempo lo decidiamo noi, questa sera ospiti della serata sono NGL. Eccomi, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Tutto bene NGL, stiamo aspettando altri ospiti, poi vediamo chi arriverà, però è già presente il nostro autore, scrittore, mentore, Gabriel Wolf. Buonasera a tutti, ciao ragazzi, come va? Benissimo, benissimo. Appena vi ho chiamato, voi avete subito declinato la serata a Sanremo per accorrere all'ennesima puntata della stanza. Io ti ho anticipato, ho declinato pure quella di ieri sera. No, invece io ieri sera sono stato, io sono un appassionato di Sanremo e anzi quest'anno ho iniziato a Sanremo. Francesco è stato un vero piacere conoscerti, partecipare, ma guarda veramente, cioè non ne posso fare se cominci così. Ho anche partecipato quest'anno per la prima volta al Fanta Sanremo, che è come se fosse un fantacalcio e devo dire che mi sta dando parecchie soddisfazioni, è troppo troppo divertente. E chi hai comprato? Scusa, chi hai comprato? Ho comprato Achille Lauro, Donatella Rettore, D'Argent Amico, che è un amico appunto di Fedez e poi adesso non me neanche mi ricordo. C'era l'altro anno che stanno la valletta praticamente. Ieri sera c'era Ornella Muti che aveva, se era sbagliata, aveva indossato due dentiere, aveva 74 denti. Cioè, perché faceva il cosplay di Alien? Faceva il cosplay di Alien, esatto. Mancava solo un'altra bocca che uscisse fuori. Divino. Divino. Per tutti quelli che hanno fatto sogni orali su di lei, pensa che batossa. Comunque, avevo anche pensato di fare delle dirette live mentre vedevamo agli interessati Sanremo insieme per fare taglie e cuci, però vabbè, siamo ancora inesperti, magari il prossimo anno. Dai, alla prossima annata facciamo una bella live together mentre vediamo Sanremo, ok? Diciamo che per fortuna ci hai ripensato, dai. L'udibrio e il Batman cinematografici. E allora, dopo aver parlato, analizzato la scorsa settimana Batman del 1989 di Tim Burton, Jack Nicholson, Michael Keaton, Kim Basinger, bomba sexy degli anni 90, questa sera parliamo di Batman in ritorno. Alla regia sempre Tim Burton. È stato l'ultimo, purtroppo, perché poi quelli che sono venuti dopo fino a fine anni 90 sono stati un disastro. 1992, grande cast, qui si vola, ancora di più, mette sul piatto altre carte, il pinguino, Danny De Vito, Michel Pfeiffer, Catwoman. Impressioni, vai NGL. Vado. Allora, la volta scorsa abbiamo detto che Tim Burton, Tim Burton diciamo sicuramente all'esordino come quello che conosciamo oggi, fece un ottimo lavoro col primo Batman e dicemmo però, specificammo che era un Batman di Tim Burton. Questo secondo film non è un Batman di Tim Burton, ma è Tim Burton che si inventa qualcosa su Batman, sostanzialmente. Lo si vede dalle prime scene, proprio. Immediatamente, stavolta, riconosci subito il bollino. Non che nel primo film non fosse riconoscibile il suo marchio, ma qua è proprio 100%. Il film comincia con quella bella scena, tra l'altro, bella situazione, insomma, che spiega le origini di Pinguino. Tra l'altro, completamente riscritte, reinventate rispetto a qualunque altra storia precedente al personaggio. Non stiamo qui neanche a perdere tempo su dire le differenze, perché sono proprio evidenti. E niente, già dalle prime scene, dalle ambientazioni, dall'atmosfera, dai colori, dai personaggi, dalle espressioni anche dei personaggi, capisci? Questo è Tim Burton 2.0, cioè quello che avresti visto da lì all'eternità. Insomma, quello che forse adesso, ma anche un po' stufato, personalmente. Però, rimanendo sul fatto che è un grande regista, insomma. E allora, impressioni generali, ma che dire, è un ottimo film, è un ottimo... non è un sequel, secondo me, e lo disse anche Tim Burton, che addirittura disse di non voler fare un secondo film, perché si reputava un po', diciamo, tra virgolette, annoiato dalla prima esperienza, nel senso che gli era piaciuta fino a un certo punto. E infatti lui successivamente ha detto, io non ho fatto due film di Batman, di cui uno era al seguito, ma ho fatto due film di Batman. In effetti ci sono sostanziali differenze. Lui stesso ha voluto eliminare qualunque collegamento, qualunque no, però insomma, ha molti collegamenti tra il primo e il secondo. Infatti, diciamo, per lo più i personaggi presentati nel primo film, per esempio un Harvey Dent, che ricordiamo insomma di aver visto tra i vari personaggi che si muovevano nella scena del primo film. Anche lo stesso commissario Gordon non assume un ruolo più importante in questo secondo film. Insomma, diciamo che tutti i collegamenti col passato sono venuti meno. Anche Ricky Vail, la fotografa, diciamo, protagonista del primo film, Kim Basinger, che hai ricordato tu, non c'è più. Scompare, scompare. Scompare, perché, vabbè, ci sta, ci sta, perché comunque, voglio dire, è un personaggio che può andare e venire nella vita di Bruce Wayne, come, perché è un solitario, per l'appunto, insomma. Si rinuncia anche a un'eventuale aggiunta di una figura, diciamo, di una figura a spalla come Robin, che all'inizio era stata buttata lì. Poi, purtroppo, lo vedremo nelle prossime, come dicevi tu, nei film successivi a questo qui del 92, con scarsi risultati. Ma anche lì, perché? Perché Tim Burton preferisce dare un'impronta, un disegno di Bruce Wayne e di Batman come un personaggio estremamente solitario, estremamente pupo. L'atmosfera è sicuramente pupa, ben riuscita, ben costruita. I personaggi e la trama, allora, diciamo questo, i due D-Line, se così si possono definire entrambi, non lo so, perché poi Catwoman è sempre il personaggio borderline, sono sicuramente ben costruiti, ben riusciti e ben interpretati. La figura di Pinguino, come dicevamo prima, è una figura molto caricata, molto bartonesca, nel senso che ha proprio tutta la sua storia, ha quelle tinte. Storia che consente al regista di approfondire il tema della diversità, in qualche modo, in questo caso manifestata proprio da un aspetto fisico orripilante, diciamo da esigenze fisiche particolari, no? Lui si mangiava qualsiasi cosa, anche da bambino, no? Lo si vede in una scena dentro una gabbia che acchiappa il gatto, il cane, mi ricordo se lo mangia. Sì, acchiappa il gatto. Esatto. Fra l'altro scena orrenda, ricordo che mi piaceva da piccolo. Ma sì, allora, diciamo che è stato anche a suo tempo criticato come film molto cupo e violento, anche insieme al primo film. Per l'epoca effettivamente non c'è male, diciamo. E ecco, quindi questo è il tema toccato principalmente con la storia di Pinguino, che non è, diciamo, è una storia che da qualche parte fa anche un po' d'acqua, per carità, nel senso che, insomma, poi lui riappare con determinati obiettivi, che Batman ovviamente da grande detective scoppe capisce subito. E comunque, vabbè, interessante. Su Catwoman, vabbè, spendo poche parole, poi magari approfondiamo. Il personaggio interpretato da Michelle Fischer, che allora anche qui è molto diverso da quello a cui siamo abituati, perché è una segretaria, innanzitutto impacciata nei modi e nei comportamenti. Poi succede l'incidente, viene lanciata dal 34esimo piano del Grattacielo, sopravvive e cambia atteggiamento perché, appunto, subisce l'influenza della sua trasformazione. E lì diventa un personaggio simile a quello che conosciamo. Chiudo qui, diciamo, giusto con un commento su Catwoman, un personaggio che forse è un po' troppo caricato, insomma, con l'interpretazione di Michelle Fischer, che comunque è valida. L'ho trovato a volte un po' troppo, con tutti quei miau, insomma, un po' forzato, un po' esagerato. Magari poi approfondiamo, magari vi lascio un attimo la parola. Ditemi anche cosa ne pensate, insomma. Certo, certo, adesso facciamo il giro, ma prima voglio far entrare un birichino, che oggi ha fatto tardi, eh? Il nostro tecnico, suono, luci, vista, udito, gusto. E tutto, tamant, comparto. Buonasera, buonasera. Ma come abbiamo fatto? No, no, no. Colori, luci, fino adesso. Sei pure un po' sovrimpresso. Dovevo sistemare, sì, un po' di, fare un po' di, di luce un po' più soffusa qui dentro e anche... Creare la giusta atmosfera, certo. Certo, certo, visto che si parla di Batman, insomma. No, no, ma... Ma non è che fai come l'esperto delle luci di Boris, che smarmelli tutto, no? No, no. Comunque... Smarmella, smarmella, apri tutto. E' bellissimo, è bellissimo seguire dietro le quinte i vostri commenti, eh? Senza sapere che voi sappiate che io sto guardando voi, insomma, vedete? Ora, eh? Ah, stai facendo... Ti è piaciuta questa parte dello spione? Del voi interviene? Sì, 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 assolutamente. Infatti, infatti, ecco, fino a che non mi inserisci, appare proprio la scritta sei dietro le quinte, proprio, su StreamYard. Quindi, vedi, molto bella come cosa. Allora, va bene, senti, dopo ti do la parola. Vai, 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 tranquillo. Nel frattempo aggiungo qualcosa a quello che ha detto NGL. Allora, film, ovviamente il seguito è interessante. Secondo me è anche più interessante del primo. Anche se il primo, ovviamente, la scena la prendeva tutta Jack Nicholson col Joker. Ma, mentre nel primo, un po', anche l'interpretazione di Michael Keaton era un po' offuscata, nel secondo è sempre offuscata, nel senso che invece di aiutarlo a dargli un po' più di soggettività su di lui, sul personaggio, gli hanno infilato personaggi principali in più. E quindi, Danny DeVito rirubba, secondo me, la scena, tanto quanto Jack Nicholson, perché, secondo me, è un attorone e interpreta un pinguino, ovviamente, come diceva pure NGL, un po' riscritto, perché non è assolutamente come nei fumetti. Anzi, la storia che viene descritta in questo Batman e il ritorno del pinguino è esattamente la storia che doveva essere quella di Killer Croc, sempre un cattivone, cattivone inventato da Bob Kane. Il film è strepitoso, c'è pure Michelle Pfeiffer, quindi anche dalla parte femminile, mentre Kim Basinger nel primo, comunque Kim Basinger bomba sexy negli anni 90, ma non proprio una torona, mentre Michelle Pfeiffer una torona. Fra l'altro qui c'è anche la doppia personalità, perché interpreta la segretaria spigata, impacciata, interpreta la strasensuale, sensuale Catwoman. E quando tu sai, secondo me, fare due interpretazioni così distanti l'una dall'altra, sei un attore con la maiuscola. Per esempio, io odio, e poi me lo dirà anche dopo Gabriel Wolfe, che lo sento trepitante, io odio Julia Roberts, perché Julia Roberts interpreta Julia Roberts in tutti i suoi film, addirittura in Huck, Capitano Huckino, lei ha dovuto fare Julia Roberts diventando grande. Posso farti una domanda? Sì, certo. Ma se non vuoi che partecipo più, perché non me lo dici direttamente? Perché tu ami Julia Roberts? Spassionatamente, caro. Va bene, me ne parlerai dopo. Me ne parlerai dopo. Sembra che lo stai facendo ad persona. Da quando eravamo giro le quinte. Non ci siamo messi d'accordo, però. Ah, è una combustione spontanea, ecco. È spontanea. Allora, la trama, secondo me, è sempre sulla falsariga del primo, personaggi che, insomma, vanno un po' per cavoli loro, fanno cose e poi se le rimangiano, il pinguino parte che vuole cercare i propri genitori, Chester Copperpot diventa sindaco. Ci hanno messo anche Christopher Walker nei panni di Shrek, che non è l'orco, però secondo me Christopher Walker non fa una grande interpretazione. Questo film lo vedo un po' trattenuto, l'ho visto, sicuramente perché non era protagonista di nulla, e poi lo vedo troppo truccato, cioè quel parruccone che si vede proprio... Poi lì era giovane e l'hanno dipinto come un personaggio anziano, ma in realtà si vedeva che era giovane, era troppo truccato. E poi Tim Burton gli dà questa sinfonia del freak, no? Di questi mostri circensi che a lui piacciono tanto, perché a Tim Burton gli piace molto il freak. Che cosa ci rimane di questo film? Purtroppo niente, io lo ricordo da bambino. Mi piaceva il fatto che finisse con una Catwoman ancora viva, che poteva tornare, ma non era ancora l'epoca dei supereroi che sarebbero tornati. E quindi finisce così, lui era già scritturato per un terzo, ma Tim Burton, ma mandò tutto a quel paese, compreso Michael Keaton. Ma poi dopo andiamo un po' più nello specifico. Gabriel, a te! Allora, cominciamo dal smorzare un tantino facili entusiasmi di fronte a uno spettacolo che sembra la versione dark di Broadway. Questo film l'ho trovato estremamente godibile, ma non mi è piaciuto per niente. E per spiegare il perché non mi sia piaciuto, anche se l'ho apprezzato molto, e non perché fosse di Tim Burton, bisogna guardare per me i livelli di approccio alla storia e all'opera. Perché qui ce ne sono due. C'è quello come lo chiamate prima, il bollino Tim Burton, cioè l'apparenza, ciò che si mostra immediatamente agli occhi dello spettatore, che è spettacolare e dunque lo rende godibile, però superata l'apparenza c'è un discorso trito, ritrito, verboso, noioso, contrito. No, contrito proprio per niente, perché non ha nessuna remora né sfasciare le palle dello spettatore con la solita disanima psicosociale, per cui si maschera dietro la citazione di Fricks del film di Todd Browning degli anni 30, in realtà che cosa? La solita denuncia sociale che il diverso viene discriminato e quando vuole cercare di essere accettato viene comunque respinto dalla stessa società che l'aveva discriminato. Ecco, sembrava un esercizio di solfeggio, ma comunque credo renda l'idea. E francamente dal punto di vista americano io trovo questa cosa, questo modo talmente inflazionato nell'approcciarsi alle problematiche cosiddette del diverso da ottenere l'effetto contrario perché piuttosto che sottolineare che la diversità può essere un arricchimento e l'accettazione di ciò che non è usuale può renderti migliore, qui invece non si fa altro che sottolineare che la diversità è diversità, punto, basta. Poi c'è il film può essere definito con molti aggettivi, è onirico, è grottesco, è surreale, però alla fin fine è ho detto versione dark di Broadway, sì, e posso dire anche di che spettacolo, di Moulin Rouge, cioè questo Batman con un Michael Keaton che è un attore strepitoso ridotto a una specie di manichino perché ah, sono cupo, ah, sono depresso, ah, io sono solitario, non è Michael Keaton, Michael Keaton è un attore brillante che dà il meglio di sé quando può esplodere come non Beetlejuice come penserà chiunque, ma quando faceva il Cavaliere Pazzo in Molto Rumore per Nulla di Kenneth Branagh che era con i suoi giochi di parole tanto in inglese che in italiano era assolutamente formidabile per cui un'occasione sprecata in questo senso. che fra l'altro rispetto al primo sembra voler dire Batman se non ha accanto Joker che gli rompe i coglioni non è Batman che ci sia Robin o meno è irrilevante però non è Batman e francamente trovo la cosa piuttosto desolante e lo dico con tutto che Batman non è mai stato uno dei miei superiore preferiti tutt'altro piccola nota di così finale sul finale io più che notare che Kate Mom oh cielo meno male ancora viva poi quella scena assurda cade dal 34esimo piano se la sbocconcellano i gatti e lei non si sa come perché risorge con poteri da gatta vabbè ok la bellezza del mistero cioè della serie non mi va di spiegartelo per cui accettalo così perché sono Tim Burton e vattene anche il paese ma no c'è un'altra cosa in questo caso Tim Burton fa un non so se è un omaggio al vecchio cinema d'autore o una terribile e sfrontata leccata di culo al cinema d'autore perché nel finale cita il finale rifà il finale di colazione da Tiffany in cui Michael Keaton interpreta Audrey Hepburn nella stessa medesima scena in cui lei va a riprendere nel vicolo il gatto se lo prende in braccio se ne rimette in macchina e piangendo torna a casa cioè francamente vedermi Michael Keaton accostato stilisticamente a Audrey Hepburn mi fa abbastanza senso un po' impressione ma la trovo più che altro una furbata che potrebbe che più che una citazione diventa un modo di carpire il favore del pubblico come a dire guardate che sono dark però conosco il cinema d'autore ok meno male che non tutti i film che ha fatto sono così perché è un regista che io adoro ma come Mozart non ha fatto solo capolavori proprio per niente anche se dipende dall'approccio e dall'angolazione di lettura certo allora Gabriele ti fermo così passiamo passiamo a Mandro allora diciamo che avete detto tantissimo e tutte cose che condivido pienamente io la vedo anche in questo modo questo è uno di quei film che bisogna anche un attimino andarsi a ricordare quando uscì nel 92 93 in che modo l'abbiamo visto e chiaramente andandola a rivedere adesso con ecco con le immagini anche che stiamo vedendo così è chiaro che è un film dozzinale rispetto a quello che vediamo tutt'oggi all'epoca a me è piaciuto molto e anche l'interpretazione di Michael Keaton rispetto al primo Batman secondo me c'è stato qualcosa di più positivo cioè lo vedevo un po' a rivederlo era un pochino più sciolto diciamo e la questione della gatta su quello sono assolutamente d'accordo con voi perché effettivamente all'epoca io credo che poi dare certe spiegazioni negli anni 90 su dei film tante volte non venivano dati sì è successo è cascata dal sessantottesimo piano è diventata una gatta e poi non si sa perché l'interpretazione di Michelle Pfeiffer naturalmente come avete detto voi è stata superba rispetto al primo Batman che c'era oddio aiutatemi King Batman perché chiaramente lì ha fatto poco e niente praticamente Kim Basinger in quel film qui invece un ah c'è Valerio Righetti che ci saluta sì saluta ciao Valerio ciao ciao Vale ciao ciao Valerio e permettetemi anche che vabbè l'interpretazione di Danny De Vito che per me è stato è un attore che è sempre piaciuto altrettanto mi è piaciuto molto in nel nel pinguino poi ripeto ragazzi rivedere questi film nel 2020 è chiaro che vai a vedere quelle quelle cose sciocche che negli anni 90 venivano venivano trasmesse che all'epoca però non ci facevi caso per ho sperato anche io all'epoca in un terzo film per vedere la coppia Batman e Robin ma ahimè purtroppo così non è stato anzi c'è stata ma è meglio completamente sarebbe stato meglio di no sarebbe stato meglio di no depennare completamente quell'interpretazione e però comunque è sempre un film che quando passa è sempre un piacere vederlo e rivederlo senza nessun tipo di problema quello assolutamente allora io che cosa possiamo aggiungere ovviamente ecco rivedendo le scene c'è sempre questo Michael Keaton vestito da da Batman che è un po' che è un po' in carta pecorito con queste grandissime è un po' in carta pecorita si vede che si muove proprio poverino però però guardate vi devo dire forse è un po' meglio rispetto al primo cioè l'ho sempre visto un po' più sciolto perché magari si è abituato anche probabilmente il costume di questo secondo film era un po' più gli consentiva un po' più di movimento era leggermente meno rigido però sempre molto rigido insomma rispetto anche a quello che diciamo la volta scorsa si muoveva sempre un po' così di lato per la visuale stretta e altra osservazione sul Batman rappresentato in questi due film in questo in particolare soprattutto nelle scene che stavamo vedendo si è visto un paio di volte questo è un Batman che uccide senza grossi problemi perché di fatto manda a fuoco un giullare diciamo di questi che stavano in piazza e altri buttati sotto insomma non si fa grossi scrupoli lo dico perché insomma sappiamo che nelle varie rappresentazioni del Cavaliere Oscuro insomma c'è stato sempre questa come hai detto prima tu NGL su questa il ritorno è sicuramente molto più cruento rispetto al primo assolutamente danno anche il primo non lo fosse ma allora purtroppo non essendo un lettore dei fumetti accanito partendo dalla base cinematografica per me per quanto riguarda Batman non mi ha mai dato fastidio il fatto che lui buttasse magari nel fuoco quel personaggio come potesse succedere anche poi nei Batman futuri che vedremo specie in Batman vs Super però certo sono dalla parte dei fan del fumetto che invece lo reputano una cosa abbastanza importante perché comunque c'è tutta una filosofia dietro a questa cosa la macchina ragazzi per me rimane sempre la migliore questa cioè proprio questa è storica io non sono nel cuore certo nonostante passano gli anni e cambiano i gusti estetici devo dire che la Batmobile dei film di Barton non so la reputo irraggiungibile veramente è una dei pochi se ti fate caso la Batmobile del film di Batman sembra tanto futuristica ma in realtà è ancora attuale ed ha più stile di qualunque altra Batmobile perché è un'esasperazione delle linee estetiche delle macchine del fine degli anni 40 delle Cadillac dei primi anni 50 o le Plymouth cioè quelle grandi macchine del periodo d'oro dell'industria automobilistica americana che veramente facevano un chilometro con 10 litri di benzina però qui con l'esasperazione delle forme dinamiche in fine conti si è mantenuta una certa continuità con quello stile ed è per questo che rimane intramontabile come ho detto al punto di vista spettacolare il film è molto suggestivo ecco per esempio questa cosa del fatto che Batman uccida senza troppi problemi con tutto io ho letto tantissimi fumetti non mi dà nessun problema perché anzi proprio quando leggevo i fumetti lo trovavo assolutamente ridicolo perché c'erano delle situazioni in cui non poteva non uccidere non perché fosse bello o facesse fico ma perché era necessario anche solo per autodifesa allora nelle linee narrative delle storie si inventavano delle cose allucinanti assurde purché lui non facesse neanche un graffio a nessuno è patetico è strabonista ed è ridicolo in questo caso Tim Burton gli restituisce un po' più di realismo perché in fin dei conti tutti quelli che amano Batman dicono ah mi piace perché è figo anche se non ha superpoteri ok però quello dei fumetti aveva il superpotere di una fortuna degna del sedere del David di Michelangelo come minimo perché riusciva a uscire sempre da qualsiasi situazione senza neanche graffiare qualcuno non aveva nessun senso qui invece quello che dice ah gli dà una dimensione più dark e molto più oscura no lo rende più realistico cavolo non sa volare non ha super forza non ha super velocità non controlla nessuna forma d'energia non conosce uno straccio di incantesimo però oh guarda riesce sempre a cavarsela almeno ogni tanto fatti largo se ti vieni incontro una mandria di fricche da circo incassati peggio di un'orda di zombie non è che puoi dire ragazzi apriamo un dibattito basato sul confronto costruttivo delle idee perché fai ridere i polli cavolo io sono d'accordo con te il fatto che lui sia molto ecco aspettate volevo dare volevo dire una cosa su questa scena allora questa scena è stata girata per è stata Michelle Pfeiffer ovviamente non è Michelle Pfeiffer hanno preso una professionista della della frusta una circense e ovviamente qui è lei però l'hanno fatta tutta in presa diretta diecimila volte finché non è riuscita la la stuntman o la stuntgirl a a finire di frustare i manichini e a prenderli uno per uno quindi ho visto un dietro le quinte dove lei provava quella che poi è stata messa nel film come scena e ci fu appena è stato battuto lo stop ci fu proprio una festa quasi perché non riusciva mai tutta intera a prendere tutte le teste di manichini però insomma una cattuomana e forse nel vestito è esagerato però ragazzi un po' tutti qua sono un po' freak lo stesso battaglia erano i primi anni 90 da l'aria da di prima del fado masso faceva cassetta è proprio per quello bravo capito assolutamente poi tra l'altro questo se lo riconoscete questo energumeno è l'attore che poi è qui che lo fa scoppiare è l'attore che poi interpretò il cattivo di over the top Bull ah è vero è vero braccio di ferro è vero è vero esatto non ci avrei mai pensato era proprio lui che ha fatto solo questa scena praticamente poveraccio poi l'hanno mandato al suo paese comunque che altro dire ecco Danny DeVito in questo film doveva essere presentato anche due facce però Tim Burton chiese di metterlo nel nel terzo che poi non fu realizzato da lui e la Warner cercò di costringerli a inserire Robin ma cosa molto carina che poi Tim Burton con lo scrittore insieme a lui dissero che odiavano il personaggio di Robin perché lo ritenevano completamente inutile a a Batman come protagonista non lo so che ne pensate voi di Robin a questo punto quello quello che dicevo prima è che appunto la scelta di Tim Burton su Robin è stata così spiegata e in più in realtà appunto qui si voleva dare fare l'ennesima rappresentazione di un di un Bruce Wayne barra Batman solitario spiegare il passaggio nel quale Batman decide di assoldare il suo soldato nell'esercito per la sua battaglia personale che appunto sarà Robin ne prenderà più di uno purtroppo nel corso degli anni e sarebbe stato fuori luogo in questa in questa pellicola perché avrebbe minato in qualche modo alterato un po' questa rappresentazione avrebbe aggiunto un elemento che poi meritava un approfondimento più ampio secondo me quindi giusto non metterlo però allora cosa ne penso io personalmente dei vari Robin no vabbè in realtà secondo me non è non so perché viene stesso considerato un personaggio completamente inutile magari qualcuno di voi ha una vista su questo a me sinceramente nelle sue varie manifestazioni e rappresentazioni a volte piace io l'ho sempre paragonato al Bucky di Capitano America e proprio nei fumetti proprio come Bucky è un personaggio che si evolve e cresce come è giusto che sia e da semplice pupillo protetto protégé del del supereroe principale man mano che diventa grande lo diventa in tutti i sensi per cui è molto interessante vederlo sviluppare perché è una sorta di continuazione ed espansione del personaggio principale anche se mi rendo conto che nei fumetti questo è più facile da realizzare perché i costi sono inferiori comunque della produzione di un film in un film si hanno dei tempi ristrettissimi quello però che mi delude è che in troppi cedono di fronte alla sfida di usare il Robin non come complementare ma come agente di contrasto che metta in risalto tanto le capacità che le debolezze di Batman mostrandone che sinergia possono avere mentre invece no Batman deve essere sempre il solitario al centro di tutto non lo so è una cosa abbastanza irrealistica che mi lascia molto perplesso perché alla fine viene fuori una sorta di sociopatico perché ogni volta che ha una relazione o finisce male o finisce basta quando va bene Robin è solo una spalla ci fanno le battute del tipo che indossa la calzamagna perché piace a lui no lo trovo superficiale non non mi piace questa perché proprio se ne sente la mancanza anche perché poi come ho già detto tante volte ogni volta che abbiamo parlato di Batman già di per sé è un personaggio monolitico se non gli metti un agente di contrasto che ne esalti le sfumature almeno per contrasto appunto alla fine che che è sembra un muai dell'isola di Pasqua narrativamente parlando concordo concordo veramente perché no scusa dicevo concordo pienamente perché effettivamente è proprio questo il ruolo che molto spesso che in alcune circostanze ha Robin a fianco a Batman Batman è Batman diciamo con pochi picchi di variazione sostanzialmente è un personaggio che non evolve invece il giovane che gli si affianca all'inizio non riesce anzi non all'inizio non riesce non si può convivere con un personaggio del genere quindi piano piano cresce matura come diceva Gabriele evolve e prende la sua strada e quando prende la sua strada si crea un contrasto che genera interesse proprio anche verso il personaggio che invece rimane stato infatti quando diventa Black Hawk è un personaggio spettacolare quasi mi piace più di Batman perché poi comunque non è sempre ammantato da quella scusatemi da quell'aura di perfezione in monolitismo cioè Batman non fa mai errori Batman alla fine sembra la parodia di Chuck Norris Batman non fa errori sono gli errori che si ritrovano vicino a Batman poi fra l'altro di Robin se ne susseguono se ne susseguono parecchi almeno tre se non errore da Jason Todd a livello di film purtroppo Robin non ci ha avuto una una grossa fortuna quindi secondo me anche per questo motivo forse è stato parlando sempre a livello di film sempre un pochino tralasciato e allora non metterlo su questo su Batman in ritorno secondo me si è stato meglio anche non mettere due facce perché lì entriamo sempre nel sulla sulla faccenda che mettere troppi personaggi troppi cattivi soprattutto secondo me si fa un un mappazzone un mappazzone che poi cioè diventa pesante andare se se fosse uscito il terzo film lì allora potevi andare a metterci Robin e metterci due facce quello assolutamente sì secondo me la la figura di Robin a livello cinematografico è stata rovinata da da quello di di West eh sì perché Robin è in quella in quel Batman era era praticamente era un sottone cioè era proprio Batman non credi Batman non credi che potremmo fare così eh cioè era era tutto un povero disgraziato e Batman faceva ehm Robin in questo momento forse è meglio andare e si muoveva a scatti no? in questo momento forse eh vieni vieni con me andiamo alla Batcaverna pera 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 quindi era era una una specie di grillo parlante che gli saltellava intorno e secondo me è stato difficile mh poi riacchiappare questa figura che ci ha riuscito lo scoprite degli anni degli anni sessanta con Adam West a questo punto perché per quanto gli occhi modelli possa essere ridicolo almeno lì i ruoli erano definiti ma qui io vedo una cosa che qua ognuno con i film dei supereroi ragazzi pensateci un attimo allargate un attimino la visuale ma proprio di tanto che siano di Batman o dell'Uomo Ragno i film ognuno non non pensa a creare una saga coerente con dei personaggi che invogliano a seguire questa saga ma ognuno arriva dicendo alla stile Fed sono divini quando scendo dai gradini nei tatuaggi dei latini che cosa vuol dire non vuol dire niente però siccome l'ho detto io allora si fa quello che ho detto indipendentemente la cosa è stato fatto prima e cosa sarà fatto dopo cioè qua il problema che nel cinema si è sempre parlato di prime donne fra attori e attrici nessuno ha mai avuto il coraggio forse la vedutezza di dire chiaramente che le peggiori prime donne sono i registi registi che ogni volta siccome devono dare la loro impronta personale e la loro interpretazione a questa storia rinnovando ogni volta fanno un casino per cui alla fine ti ritrovi una serie di film completamente slegati che delle storie che vorrebbero parlare hanno sia noi nomi e alla fine ti ritrovi con una serie di spettacoli come ho detto godibili sì con delle note eri stili appunto dicevo l'esasperazione delle linee estetiche anni 40 della Batmobile ok d'accordo ma non è che hai veramente realizzato qualcosa hai solo dato in pasto una tua nuova versione ok sei un artista devi dare la tua impronta va bene ma devi anche essere coerente con quello che stai facendo cioè e qua sembra come quando purtroppo lo devo ammettere anche se a mal in cuore quando c'è una certa cinematografia americana si cimenta coi film storici e poi vengono fuori delle montagne di le letame di pinguino tipo Troi che solo l'inizio sembra lo sbarco in Normandia non la guerra di Troia che si svolgeva nell'età del bronzo che è che è ridico che è un film ridicolo oltre un sia dal punto di vista storico che è mitologico cioè la ricerca è un po' come non so se ve l'ho mai fatto questo paragone è un po' come l'evoluzione dell'arte della cucina oramai non si pensa più al gusto si pensa solo a stupire per cui ti ritrovi nel piatto o in televisione delle cose assurde prive di qualunque senso di armonia tanto estetica che 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 di gusto o di aroma che però ah beh però accidenti il coniglio con le capesante con cialde di nero di seppia cioè che poi fratto cialde a nero di seppia sembra che ti sembrano dei copertoni bruciati ecco qui è la stessa cosa cioè troppo spesso si pensa più a impressionare il pubblico che a intrattenerlo e divertirlo veramente allora ragazzi ci siamo siamo arrivati alla fine la prossima settimana parliamo del seguito di questo film ufficiale prodotto dalla Warner Bros Batman Forever segnatevelo dobbiamo proprio Batman Forever abbandona il è una battuta credo purtroppo delle 21 e 45 dai va bene purtroppo no ci saranno ci saranno risate io spero anzi io ne parlerò seriamente ne parlerò seriamente sei serio sei serio quando dici che sarai serio sono serio quando dico che sarai serio il prossimo film Tim Burton se ne va dice ma che cacchio mi avete messo a fare che fate tutto voi arriva Joel Schumacher Joel Schumacher in zuppa due facce l'enigmista chi era quell'altro Robin visto che parliamo di Joel Schumacher per evitare di fare una figuraccia o azzannarci come scolopendere dentro un vaso ma parlassero nel fantasma dell'opera che quello è veramente un capolavoro di Schumacher no no perché non è abbastanza nerd ok ritiro fate conto che non abbia detto nulla no 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 possiamo fare anzi forse forse dopo Batman Forever proprio ci colleghiamo a lui e facciamo un film su Joel Schumacher così un altro cioè un qualcosa che non è super erroristi erroristi erroristico in realtà perché è più un horror che è proprio un errore ragazzi è stato un piacere un saluto a tutti mi raccomando chi ci ha seguito chi ci seguirà mettesse il mi piace alla pagina alla pagina YouTube al canale al canale mi piace condividete 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 chiamate invocate invocate parenti vivi parenti diversamente vivi morti non morti non importa qui non abbiamo pregiudizi basta che ci seguite ragazzi buonanotte a tutti andiamo a vedere tutti Sanremo perché Sanremo e Sanremo buonanotte 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 a tutti ciao ciao ciao